ben ritrovati i miei meditabondi ospiti al salone della storia della locanda oggi parliamo della terra del mistero del misticismo dei segreti occulti dei giganti della terra perduta bagnata dai mari obliati della dimora del reincarnato e del cancello di shambhala parliamo della patria di sua santità il dalai lama e mio sogno di libertà oggi amici miei raccontiamo la storia del tibet le notizie sull'origine del popolo tibetano sono poche ed incerte ma sembrano comunque discendere dalle tribù nomadi guerriere tuttavia prima del settimo secolo non vi sono evidenze di presenza di un popolo politicamente compatto molti miti bon poi ripresi dal buddismo tibetano parlano dell'origine del tibet uno di questi fa risalire l'origine del popolo tibetano all'unione tra una scimmia ed un'orchessa che ebbero sei figli considerati gli antenati delle principali sei tribù tibetane la scimmia è considerata dal buddismo tibetano una manifestazione di chan resig lava lo kitesvar il bodhisattva della compassione il mito della creazione un mito sulla creazione narra che il vuoto fu riempito dal vento e poi da una pioggia torrenziale la pioggia dopo aver formato un oceano primordiale cessò il vento invece continuava fortissimo e agitò le acque a tal punto che si addensarono come il burro dal latte in un altro mito in primo luogo attestato nel mani bga boom la gente tibetana sono la progenie dell'unione della scimmia padre jen chang bon simpa e di un'orchessa della roccia si dice ancora che la scimmia è in effetti una manifestazione del bodhisattva avalokitesvara e la orchessa in effetti tara il bodhisattva secondo un'altra leggenda niatri tempo il primo monarca della dinastia yarlung e dell'omonimo regno nel tibet meridionale era un essere immortale calato dal cielo sul tibet con una corda dmu descritta come una specie di arcobaleno e quando suo figlio raggiunse la maggiore età e raccolse la sua eredità egli riascese nei cieli usando la stessa corda una tradizione che si ripetè con tutti i primi sei re della dinastia secondo rudolf steiner come abbiamo già parlato nel podcast dedicato ad atlantide un grande iniziato scelse gli individui più progrediti spiritualmente ed emigrò in oriente nella regione dell'odierno tibet primi dati storici storicamente tribù affini ai birmani si anziarono nell'altipiano del tibet tra il 700 avanti cristo e il 400 avanti cristo dando origine a feudi attorno al 320 avanti cristo e al regno di yarlung nel 127 avanti cristo la dinastia di tale regno fondata dal monarca niatri tempo durò fino all 842 e comprende 42 sovrani la religione diffusa sul territorio era il bon accanto ad altre credenze minori tale regno si ingrandì progressivamente divenendo sempre più potente il buddismo nella sua prima forma di lamaismo arrivò in tibet nel 333 dopo cristo grazie all'opera del re la toto ring e zen già attorno al 400 dopo cristo il regno tibetano era in grado di inviare ambascerie in cina l'impero tibetano la storia propriamente conosciuta e documentabile del tibet inizia con il re song zen campo il primo a convertirsi al buddismo nel 617 dopo cristo il re song zen campo di yarlung unificò il paese assoggettando tutti i regni che vi si erano formati e fondò l'impero del tibet che comprendeva tutti i territori in cui era parlato il tibetano nel 653 dopo cristo venne aperta la prima scuola teologica tibetana da cui prese origine nel 690 dopo cristo l'attuale alfabeto tibetano ed iniziò a prendere corpo la cultura tibetana il buddismo divenne religione di stato nel 751 nel settimo secolo l'impero tibetano ebbe un periodo di splendore sotto tri zong de zen si è stese nel territorio cinese ed in altri paesi dell'asia centrale arrivando ad occupare temporaneamente la capitale cinese chang han l'odierna xian nel 763 imponendo all'imperatore i nuovi confini e pesanti tributi durante il suo regno il buddismo tibetano divenne la religione di stato ed assunse una connotazione particolare con l'introduzione dell'influenza del tantra distinguendosi da quelli praticati in cina ed in india grazie agli insegnamenti di padma sambhava venerato in tibet con il nome di guru rimpoce fu fondata la più antica scuola di buddismo tibetano chiamata ni ingma e fu costruito il samye il primo monastero lamaista del tibet nel 775 la massima espansione territoriale si ebbe attorno all'810 durante il regno di sad nalegs quando fu espugnata samarkanda con la cui acquisizione i tibetani si garantirono il controllo totale dell'antica via della seta il penultimo imperatore fu ralpa khan o ralpa chen conosciuto come il terzo grande re del dharma per la sua opera di diffusione del buddismo nel suo regno l'ultimo del periodo aureo del tibet fu firmato un trattato di pace con la cina nell'821 e nell'822 il testo di tale trattato fu iscritto nelle due lingue su ognuna delle tre stele che furono posizionate rispettivamente all'esterno del palazzo imperiale cinese di chan han di fronte al portale principale del tempio di giocanga l'asa mentre l'ultima venne posta titolo di demarcazione del confine sino tibetano sul passo di chan chun presumibilmente nella zona dell'attuale chan shui nella provincia del gansu di queste è tuttora esistente solo quella di l'asa nella quale tra le altre cose si legge tutto ciò che all'oriente è il paese della grande cina e tutto quello che all'occidente è senza dubbio il paese del grande tibet malgrado l'affermarsi del buddismo la preesistente religione bon era ancora molto potente in particolare presso la corte imperiale e rampal khan fu assassinato dal fratello tri wudum zen che istigato dalla fazione bon dopo aver assunto il titolo di imperatore instaurò un regime di terrore perseguitando i buddhisti e distruggendone i templi guadagnandosi l'appellativo di lang dharma che significa la legge del bue questi venne a sua volta assassinato in una data imprecisata tra l'842 e l'846 dall'ama dorge pal ghiulalung il paese già allo sbando dopo l'assassinio di rampal khan precipitò nel caos e l'impero si frantumò dal settimo al diciannovesimo secolo il frazionamento dell'impero e la rinascita dell'amaismo alla morte di lang dharma fece seguito una guerra civile il possente impero tibetano si frantumò in diversi regni ed un periodo oscuro iniziò per il tibet l'asa restò un punto di riferimento per i pellegrini tibetani ma il suo prestigio si offuscò oltre a perdere il ruolo di capitale politica perse anche quello di capitale religiosa a seguito della cacciata dei monaci buddisti da parti di lang dharma avrebbe lentamente riacquistato la sua importanza nel corso dei secoli successivi fino a tornare a svolgere il ruolo storico religioso che le competeva nel quindicesimo secolo con l'affermarsi della scuola lamaista gelug e l'avvento dei dalai lama il bisnipote di lang dharma bosung si instaurò nel tibet occidentale dove fondò il regno di ingari e tre dei suoi discendenti si spartirono il territorio dando vita ai regni di guge purang e mariul l'odierno ladak dopo la diaspora degli ecclesiastici dal asa il buddismo tibetano seppe riorganizzarsi nei monasteri delle regioni orientali di kam e amdo per poi rifiorire anche nel resto del paese a cominciare dalle regioni centro orientali nei regni di guge ed ingari il re riesce di ingari a cavallo tra il decimo e l'undicesimo secolo invitò monaci letterati ed artisti fece tradurre i testi sanscrit in tibetano e costruire 108 templi nella valle del sutlei dando il via ad un vero e proprio rinascimento del credo lamaista tra i vari maestri di questo periodo vanno segnalati i monaci atiscia rincen zampo e marpa quest'ultimo si stabilì nella valle dello yarlung e divenne il maestro del famoso milarepa la rinascita religiosa modificò profondamente il buddismo tibetano in questo periodo nacquero due delle principali quattro scuole dell'amaismo dapprima venne fondata quella dei sakhia grazie all'opera dell'ama sachen kung an in po ed in seguito quella dei kaiju creata dal monaco gampopa con l'elaborazione degli insegnamenti di marpa la scuola kaiju avrebbe dato luogo diverse sottoscuole tra le quali quelli dei karmapa e degli shamarpa tutti questi lignaggi furono chiamati sarma che significa nuova trasmissione ed avrebbero avuto un ruolo importante nella storia politica del paese fu in questi anni che il potere politico e quello religioso in tibet si legarono indissolubilmente i karmapa introdussero nel tredicesimo secolo il concetto di tulku ancora oggi in vigore secondo cui il capo spirituale della setta può scegliere in quale corpo reincarnarsi la società del periodo imperiale prevedeva tre tipi di proprietà quella della nobiltà quella del clero buddista e quella libera che esercitavano il loro potere sulla popolazione la cui condizione era paragonabile a quella dei medievali servi della gleba in occidente l'assimilazione tra il potere ecclesiastico e quello temporale fu l'unica modifica di quello schema feudale che con la nuova conformazione sarebbe rimasto immutato fino all'invasione cinese del 1950 sempre in questo periodo si intensificarono i pellegrinaggi dei buddhisti cinesi in tibet ed in india attorno al 1210 arrivarono in europa le prime notizie spesso fantastiche sull'altopiano tibetano il dominio mongolo 1207 1720 sottomissione a gengis kan nel 1206 divenne sovrano dei mongoli gengis kan che costruì il famoso impero e tra i vari territori assoggettati conquistò lo xia occidentale uno dei due imperi in cui era divisa la cina situato ai confini nord orientali del tibet retto dai sovrani tangut conosciuti dai tibetani anche come minyak in cui si era diffusa la scuola lamaista kajù fu una conquista difficile con una serie di attacchi che cominciò già nel 1202 e si concluso un mese prima della sua morte nel 1227 le grandi vittorie di gengis kan e la critica situazione dell'oxia occidentale preoccupò le sfere ecclesiastiche tibetane che nel timore di un'imminente invasione del paese inviarono una delegazione guidata da zangpa dungkurwa nel 1221 la missione fece atto di sottomissione al condottiero mongolo ed offrì il pagamento di tributi convincendo gengis kan a non invadere l'altopiano dopo la sua morte i tibetani si affrancarono da tale obbligo ed il figlio di gengis kan ogedei kan ordinò la prima invasione del tibet nel 1240 ma l'anno dopo morì e le sue truppe si ritirarono nascita della teocrazia in tibet i tutori imperiali il figlio di ogedei e fratello del nuovo gran kan guyuk koden si convertì al buddismo tibetano e a tale scopo invitò alla sua corte come maestro spirituale il più importante lama di quel tempo sakya pandita che era discepolo della scuola sakya una delle quattro più importanti del buddismo tibetano di tutti i tempi nel 1247 il principe koden invase la quasi totalità del tibet facendone uno stato vassallo di cui fu nominato governatore sakya pandita che diede così inizio alla dinastia dei sakya al cui vertice si succedettero 19 governatori che avrebbero controllato il territorio in nome dei mongoli fino al 1358 in questo modo fu introdotta per la prima volta la relazione prete protettore chiamata chioion in base alla quale i sakya ottennero ampi margini di autonomia nel governo del territorio un privilegio a cui nessun altro dei popoli soggiogati dai mongoli ebbe accesso nel 1258 il condottiero mongolo kublai khan organizzò una disputa tra teologi taoisti e lamaisti che secondo fonti tibetane fu vinta da quest'ultimi con la conseguente distruzione dei testi dei taoisti che vennero costretti a convertirsi al lamaismo a capo della delegazione tibetana era drogon kogyal pagpa il sakya palama nipote e successore di sakya pandita che in virtù di tale vittoria acquisì grande influenza alla corte mongola fino ad essere nominato precettore imperiale fu così ristabilita da kublai la supremazia nella corte mongola dei sakya e dell'amaismo che erano state abolite dal suo predecessore fratello monge khan kublai che stava completando l'annessione della cina all'impero mongolo aiutò pagpa a prendere l'egemonia anche sui vari regni ed ordini monastici tibetani garantendo l'esenzione da tasse e corvè su intercessione dello stesso pagpa l'imperatore concesse libertà ai lama su quale setta e scuola intendessero scegliere nel 1268 gli affidò la conduzione di un censimento secondo cui il tibet era diviso in 13 stati sui quali gli affidò il potere temporale con la carica di tutore imperiale come precettore pagpa visse in cina ed un subalterno governò il tibet in sua vece con il titolo di ponchen da non confondere con il panchen lama questi eventi segnarono la riunificazione del tibet e instaurazione in esso della prima teocrazia una svolta epocale che avrebbe segnato il futuro assetto politico e religioso del paese in seguito pagpa avrebbe rafforzato il legame del suo clan con l'imperatore organizzando il matrimonio di suo fratello di un nipote di un pronipote con principesse mongole e morì nel 1280 avvelenato da un ponchen durante una sua visita in tibet nascita della controversia sino-tibetana sulla sovranità del tibet la conquista della cina fu completata nel 1279 e kublai khan divenne il primo sovrano della dinastia huan dell'impero cinese questi lasciò inalterati i sistemi di amministrazione dei paesi conquistati ed il sistema governativo che instaurò nella nuova capitale pechino basato su quelli delle precedenti dinastie cinesi non fu mai adottato in tibet a seguito di queste annessioni l'attuale repubblica popolare cinese rivendica il territorio tibetano proclamandone la legittimità dell'annessione alcune critiche rivolte alla cina replicano che la successiva dinastia ming cinese non ebbe niente a che fare con i mongoli e sarebbe quindi come se l'india rivendicasse diritti nei confronti della birmania in quanto in passato appartenente all'india britannica quando i mongoli acquisirono la sovranità sul tibet non avevano ancora completato la conquista della cina la supremazia dei sacchia fu messa in pericolo nel 1285 quando scoppiò una rivolta dei sostenitori della scuola lamaista kaju del ramo rikung alleatisi con i mongoli tua re del canato kagatai stanziato a nord ovest del tibet e in conflitto con i mongoli orientali l'intervento delle truppe sacchia e di quelle imperiali provocò 10.000 vittime e la sommossa fu sedata nel 1290 con la distruzione del monastero rikung dove si erano asserragliati i ribelli nuova indipendenza tibetana quando il potere dei mongoli cominciò a declinare il governo dei sacchiappa fu rovesciato tra il 1354 e il 58 da tai situ changkum gyalzen il più alto esponente del ramo pagdru della scuola buddista kaju legato ai drikung che diede inizio alla dinastia pagmodrupa insediò la capitale del nuovo regno a nedong nella valle dello yarlung nel tibet del sud ed estese il controllo sul tibet centrale dando inizio a un periodo di stabilità i cinesi si emanciparono loro volta dal dominio mongolo nel 1368 quando iniziò la dinastia ming ed il neo formato regno tibetano divenne uno stato tributario della cina in cambio i pagmodrupa ottennero dall'imperatore il titolo di chan wan hung principi che diffondono il buddismo nel quindicesimo secolo il tibet si spaccò nuvamente con l'avvento del clan dei ringpung che si era impossessato nel 1434 della zona di shigatse nello zang la parte centro occidentale della valle dello yarlung dove patrocinavano il potente ramo della scuola kaju de karmapa avevano inoltre esteso la loro influenza sui pagmodrupa i cui regnanti di quegli anni avevano sangue ringpung i ringpung consolidarono i loro territori e fondarono l'omonima dinastia mentre le due dinastie pagmodrupa e ringpung regnavano parallelamente si sviluppò una nuova scuola di buddismo tibetano chiamata geluk che era nata nel 1409 ed era diventata una delle quattro principali del buddismo tibetano è quella che tuttora ha più influenza tanto che ad essa appartiene l'attuale dalai lama pur non essendone il capo la guida dei gelukpa per tradizione è un successore del fondatore della scuola zong kapa che fondò il monastero di ganden il centro principale del nuovo movimento e fu uno dei principali maestri di quello che avrebbe ricevuto il titolo postumo di primo dalai lama jendun troupe l'affrancamento dei tibetani dai mongoli fu soltanto formale in quanto un'alleanza stipulata nel 1497 si sostituì al vassallaggio l'ascesa dei geluk portò alla costruzione delle due celeberrime università monastiche di sera e di drepung rispettivamente nel 1452 e nel 1469 nel 1475 nacque la reincarnazione di jendun troupe jendun ghiazzo che contribuì a diffondere la dottrina geluk in tibet viaggiando intensamente e nel 1578 il suo successore il potente monaco della scuola geluk sonam ghiazzo divenne maestro dell'imperatore mongolo al tankan secondo alcune fonti questi gli conferì il titolo onorifico di oceano di saggezza ovvero dalai lama ma l'attuale dalai lama tenzin ghiazzo ha dichiarato che secondo le sue fonti tale appellativo fu usato dal re mongolo solo in segno di deferenza e che non fu un'investitura ufficiale mentre il primo dalai lama si era occupato quasi esclusivamente di approfondire gli studi teologici e diffondere la religione il secondo entrò nello scenario politico stringendo amicizia con il principe pagmodrupa mentre il terzo si rivelò un brillante politico con i suoi uffici presso la corte mongola e diventando amico personale del penultimo principe pagmodrupa kagyud nampar gyalwa il principe successivo fu a capo di una delegazione che si recò in mongolia per prendere in consegna quello che era stato riconosciuto come il quarto dalai lama yonten ghiazzo un principe mongolo discendente di altankan che giunse al asa accompagnato da un esercito mongolo nel frattempo la dinastia ringpung ebbe un periodo di splendore alla fine del quindicesimo secolo che la vide completare la conquista dello zang assumere la reggenza della declinante dinastia pagmodrupa e conquistare il regno guge della regione del ngari del tibeto occidentale oltre a quello dei karmapa si era assicurata anche l'appoggio del ramo shamarpa della scuola kaju il più importante dei suoi sovrani fu donio d'orge che regnò fino alla morte avvenuta nel 1510 e che guidò un esercito fino alla zona di lasa ritirandosi prima di conquistarla l'espansione di questo regno nel sud ovest e quella della dinastia gelug nella zona di lasa portò allo scontro tra le due potenze che avrebbe segnato pesantemente la storia del tibet tra il 1500 e il 1620 in questa fase i principi della declinante dinastia pagmodrupa cercarono in vano di comporre il conflitto dopo la morte di donio d'orge cominciò il declino dei ring pun che portò all'affermazione di un altro clan dello zang i zangpa la cui dinastia legata a sua volta ai karmapa e agli shamarpa prese il potere nel 1565 grazie al sovrano karma zeten la massima espansione zangpa si ebbe agli inizi del diciassettesimo secolo quando conquistarono il tibeto occidentale ed espulsero i mongoli alleati del quarto dalai lama in tale occasione massacrarono 5000 monaci geluppa che tentarono di resistergli dalle roccaforti di sera e di tre punghe l'unica sconfitta di quel periodo fu quella con l'armata del ramo druppa della scuola kaju il cui leader si distaccò dalla storia temporale tibetana fondando il regno del butan nuova invasione mongola nel 1640 si registrò una nuova invasione mongola del tibet da parte delle truppe di gursi khan re degli ho sud questi su invito del quinto dalai lama sconfisse il nemico del patriarca il re dello zang che era legato a karmapa e occupò inoltre le regioni del tibet orientale note come kam orientale e amdo dove il re zangpa si era alleato con alcuni feudatari locali in seguito a tali avvenimenti il re mongolo riunificò il tibet fece atto di sottomissione al dalai lama e gli affidò il potere politico spirituale del paese ottenendone in cambio il controllo dell'esercito ed il titolo formale di re del tibet grazie al nuovo intervento mongolo si impose l'amaismo gelug che favorì la creazione di uno stato teocratico a capo del quale nel 1642 fu posto nanguang lobsanghiazzo il grande quinto dalai lama il paese era stato finalmente riunificato e la sua gloria era tornata a splendere tanto che durante la visita a pechino del dalai lama nel 1653 l'imperatore cinese lo colse come un suo pari egli istituì l'attuale sistema di governo tibetano conosciuto come gaden podrang abbattuto nel 1950 dai cinesi il suo regno fu florido ma alla sua morte ricominciarono congiure di intrighi ed il paese ripiombò nell'anarchia dopo un susseguirsi di dalai lama spiritualmente capaci ma temporalmente incompetenti e con il declino della potenza mongola sua protrettrice il paese cadde in balia del limitrofo colosso cinese nel 1717 un altro popolo di origine mongola gli zunkar furono chiamati dai tibetani per cacciare le armate del nipote di gushuri khan labazkan in viso alla popolazione per aver destituito il sesto dalai lama gli zungar invasero il tibet e uccisero labzang ma si resero protagonisti di barbari e tali che i tibetani per liberarsene si videro costretti a chiedere l'aiuto dei cinesi il cui imperatore kang si inviò delle truppe che presero l'asa nel 1720 ebbe così termine dopo cinque secoli il dominio mongolo nel tibet e la cina ottenne il diritto di avere un commissario residente all'asa fu così che il tibet si trovò sotto il protettorato cinese pur conservando la sovranità fu in questa occasione che i governanti tibetani cedettero gran parte del camo orientale alla cina in segno di gratitudine la regione fu nelle province del si chuan e dello yunnan ai capi tribù locali tra i quali figurava il re di gerge fu concesso di continuare a governare come vassalli dell'imperatore cinese con larghi margini di autonomia sempre nel diciottesimo secolo la zona nord del cam chiamata yushu entrò a far parte della provincia cinese del chinghai il protettorato cinese le truppe cinesi scortarono l'asa il giovane settimo dalai lama nato nel tibet orientale e lamban fu installato in tibet ufficialmente per rimanere a disposizione del dalai lama ma in effetti per proteggere gli interessi cinesi questo fu l'inizio della interferenza manchù negli affari tibetani con la presa di potere del principe tibetano mi wang fu adottata una politica a favore degli interessi cinesi dal 1726 furono inviati al asa due residenti cinesi per controllarne meglio la vita politica nuovo regnante fu il principe talibador anch'esso favorevole ai manchu alla sua morte il paese cadde in completa anarchia e la cina ne approfittò per occuparlo quando i tibetani si ribellarono nel 1750 e uccisero lamban l'esercito cinese entrò nel paese e nominò un successore del funzionario ucciso e come regnante fantoccio installarono il lama losan nag nel 1788 i guerrieri nepalesi gurka invasero il sud del paese e furono respinti dalle truppe cinesi un nuovo intervento cinese in tibet si verificò nel 1790 quando i rappresentanti gli amban dell'imperatore manchù si trasferirono all'asa e tentarono di impegnarsi in indicibili intrighi per intromettersi negli affari tibetani nel 1793 il governo di pechino promulgò una legge per la scelta del dalai lama e del panchen lama togliendo il privilegio alla nobiltà tibetana a detta dei cinesi corrotta e non adatta allo scopo con il nuovo sistema veniva compilato una lista di pretendenti ai titoli ciascuno dei loro nomi veniva inserito in un urna dalla quale veniva estratto il nome del nuovo patriarca alla presenza delle autorità cinesi tale scelta veniva in seguito ufficializzata con la ratifica del capo di stato cinese questo sistema è rimasto immutato fino ai giorni odierni nel frattempo la situazione internazionale era assai peggiorata i britannici dal 1757 avevano assunto l'intero controllo della penisola indiana e dal 1835 al 1843 completarono la creazione del protettorato sul confinante cashmere il tibet era divenuto un paese a rischio uno stato cuscinetto stretto nella morsa dei cinesi ad oriente e dei britannici nel meridione nel 1856 un trattato tra cinesi e britannici stabilì i confini tra tibet e nepal i manchu ottennero il controllo nominale sul tibet orientale per un periodo che terminò nel 1865 quando i tibetani ripresero possesso dei territori perduti quando nacque il tredicesimo dalai lama il tibet si trovava ancora sotto protettorato cinese e con questo miei cari ospiti abbiamo detto tutto sulla storia del tibet fino al 1900 se vi ha interessato questa voce potremmo parlare anche della storia contemporanea e del ventesimo secolo che come immaginate è ricco ma tanto ricco di avvenimenti io vi invito a mettere un like questo video di commentarlo se avete suggerimenti per nuovi podcast vi ricordo delle pagine facebook e instagram e che potete fare una donazione tramite canali cofi e paypal un saluto dal vostro host e ci sentiamo al prossimo podcast